Ciao, siamo a Passo Promollo e siamo diretti sul Monte Corona. Abbiamo un'oretta e mezza di strada, il tempo al momento è un po' coperto. Bivelmente sono un po' copertina e sono un po' coperto. Sì 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 E quando sei finito mi sono mai dubitato Sì 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 Come hai stato il tiro signor Luca? Appassionante Sì È stanco? No No? Niente? No, neanche un po' Niente Ma hai mangiato abbastanza? Sì Però è stato bello Sì Abbiamo visto le mucche Le mucche Cosa abbiamo visto? Le marmotte Le marmotte Le marmotte Le caram bellissime Sì E poi? E poi abbiamo visto Un laghetto E dopo? Ciao 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 Ciao